Bentrovati! Oggi andiamo a realizzare una ricetta molto gustosa aglio e olio a modo mio. Preparati tutti gli ingredienti andiamo alla ricetta. In una padella ho messo olive nere, olive bianche, capperi, aglio e peperoncino. L'olio. Accendiamo il fuoco. Con un bicchiere d'acqua andiamo a far cuocere un pochino il fondo di cottura. Vado a coprire e lascio andare per qualche minuto a fiamma dolce. Andiamo a controllare che il liquido non si sia del tutto asciugato e il fondo non si sia bruciato. Diamo una rimescolata e facciamo continuare la cottura sempre con il coperchio a fiamma dolce per fare in modo che asciughi tutta l'acqua. Andiamo poi a rimuovere l'aglio e continuiamo la preparazione del fondo. Intanto mettiamo la pentola sul fuoco per portare l'acqua a bollore. A fiamma spenta andiamo ad aggiungere al fondo di cottura la pasta di acciughe. Io metto mezzo tubetto e le due scatolette di donno ben sgocciolate. Intanto ho calato la pasta e una volta che è cotta al dente l'andiamo a scolare direttamente nella nostra padella col fondo di cottura. Riaccendiamo poi la fiamma e andiamo a fare la mantecatura. non vi preoccupate se nella pentola con il fondo cade un poco d'acqua di cottura. Ci servirà per fare la nostra mantecatura. Riaccendiamo il fuoco come vi dicevo e andiamo a dare una bella mescolata per far assorbire quel poco di liquido che è caduto durante la scolatura della pasta. Quando tutto il liquido si è asciugato andiamo ad impiattare i nostri spaghetti e questo è il risultato. Buon appetito! Spero che anche questa volta la ricetta vi sia piaciuta. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. A presto!